Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV venerdì è nove settembre la notizia del giorno la notizia arrivata nella tarda serata di ieri è quella della morte della regina Elisabetta seconda ed è la notizia che oggi troviamo in primo piano su buona parte della stampa nazionale e anche internazionale allora noi andiamo subito a iniziare la nostra rassegna stampa proprio dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e vediamo come viene raccontata questa notizia che ieri ha toccato il mondo intero la regina dei due secoli scrive il Corriere della Sera in apertura Elisabetta seconda è morta nel castello di Balmoral Carlo terzo è il nuovo re confortati dall'amore del mondo per lei queste le parole di eh Carlo di Re Carlo a questo punto che ehm ieri ha eh diffuso appunto la notizia con un breve messaggio e che oggi terrà un eh discorso il Corriere della Sera scrive ancora nell'articolo di eh apertura di Beppe Severgnini ha onorato la sua eh promessa e poi vediamo di spalla la lunga attesa del principe e anche di Camilla che sarà la regina e poi il racconto della giornata di ieri familiari la tv e i segnali della fine eh vicina con un comunicato diffuso da Buckingham Palace del nel primo eh pomeriggio e poi la vita privata di eh Elisabetta e i cavalli i cani e quel cruccio per Lady Diana una matriarca della nazione era parte di me ha detto ieri l'ex primo ministro Boris eh Johnson e poi vediamo la foto eh scelta dal Corriere della Sera per ricordare la regina Elisabetta seconda forse la prima foto eh ufficiale eh della regina eh Elisabetta appunto eh incoronata a settant'anni eh fa voltando pagina e venendo alle eh cronache interne vediamo di spalla il centrodestra avanza a diciannove punti di vantaggio ultimo sondaggio cresce Fratelli d'Italia giù il partito democratico sale il movimento cinque stelle sostegno in stall sostegni in stallo e Draghi striglia i eh partiti non ci sono ancora eh novità non è ancora stato promulgato il decreto aiuti bis per sostenere famiglie imprese in difficoltà con il caro energia. Chiudiamo il eh Corriere della Sera e andiamo a vedere adesso la prima pagina di Repubblica il titolo e la foto e la foto scelta appunto per eh raccontare la morte della regina Elisabetta sono questi l'ultima regina millenovecento ventisei duemila ventidue dopo settant'anni di regno Elisabetta seconda è morta a Balmoral. Falla in lacrime a Buckingham Palace il nuovo re Carlo III ha detto un grande dolore consolati dall'amore del mondo per lei. I funerali come stabilito da un protocollo il protocollo che è stato denominato in codice London Bridge il protocollo che stabilisce esattamente tutti i passi eh da eh effettuare dopo la morte della regina Elisabetta il funerale si terrà tra dieci eh giorni e anche qui vediamo il eh commento di eh Francesco eh guerra che scrive cosa resta della monarchia ora che il ponte di Londra di Londra è caduto cosa lo eh rimpiazzerà la morte della regina Elisabetta da inizio ad una resa dei conti psicologica anche per centinaia di milioni di stranieri che per settant'anni sette mesi e due giorni avevano considerato questa figura minuta il monarca più famoso del mondo e vediamo anche qui abbracciò due secoli specchio per i suoi sudditi e ancora le confidenze del segretario le piaceva lavare i piatti il principe è dimenticato ora quarantesimo eh sovrano e poi un ricordo quella volta che rimproverò il nostro eh premier andiamo eh di eh spalla e eh andiamo a leggere anche anzi rimaniamo al centro pagine andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo dell'inviato di eh Repubblica a Edimburgo eh Antonello Guerra scrive piomba il silenzio una calma immortale un abisso collettivo nelle strade sui treni alla BBC squillano i cellulari tutti si chinano si fermano per leggere la notizia per rispetto il Regno Unito diventa uno scoglio di eh dolore e poi anche su Repubblica ovviamente abbiamo gli altri temi in primo piano con l'Europa bloccata aslita ancora il tetto al prezzo eh del gas e poi la politica tasse e sovranismo così Meloni lancia la spallata eh finale il PD insegue fratelli d'Italia e Conte supera la lega di eh Salvini in Ucraina ha ferito in Donbass un reporter italiano caso diplomatico tra Roma e eh Mosca andiamo sulla stampa stampa che apre con l'Europa che appunto non ha ancora raggiunto anzi si spacca sul tetto al gas la BCE altri rialzi dei eh tassi i paesi bassi guidano il fronte del no all'accordo su price cap i dubbi tedeschi aumento dello zero virgola settantacinque per cento dei tassi contro l'inflazione dall'iva sei miliardi per il decreto aiuti e poi vediamo anche qui Regina per sempre scrive la stampa che utilizza la stessa foto che abbiamo visto su Repubblica addio a Elisabetta seconda sovrana per quasi eh ventisei e mila giorni il trono passa a suo figlio Carlo terzo e inizia dunque la nuova era di Charles e Camilla William Harry e i guai dei Windsor in un altro articolo oggi su la stampa il manifesto titola il secolo in breve è morta Elisabetta seconda Winson la regina più longeva del più longevo impero moderno o ciò che ne resta ha visto una guerra mondiale e varie guerre coloniali l'Irlanda del nord e le Falkland Margaret Thatcher e Lady Diana l'ingresso e l'uscita dall'Europa se ne va da icona pop nell'universo digitale dove non si muore mai una foto della regina eh di spalle dunque poi vedremo la vedremo anche su qualche altro quotidiano il giornale eterna regina addio a Elisabetta seconda scrive il eh giornale che poi aggiunge ha attraversato la storia con il sorriso simbolo della tradizione del novecento Lilibet eh più forte dei tradimenti eh familiari ancora andiamo su Libero che titola così Elisa Brexit la regina muore a novantasei anni dopo settanta di regno folla a Buckingham Palace ora tocca a re Carlo eh terzo andiamo anche sulla prima pagina della verità che eh mette la notizia della scomparsa della regina nel taglio alto ma solo con un trafiletto addio a novantasei anni il mondo ha perso l'ultima regina scrive la verità in apertura eh il governo e l'Unione Europea balbettano Londra tira fuori centosettanta miliardi le aziende italiane iniziano a chiudere la neopremier trust vara un piano per bloccare le bollette per due anni il nostro consiglio dei ministri scova sei virgola due miliardi e torna in aula per discutere come usarli slitta la conversione del decreto aiuti bis oggi il vertice europeo i paesi spaccati il tetto del gas forse a ottobre sicuri per ora tasse e razionamenti questa l'apertura della verità andiamo anche sulla prima del fatto quotidiano anche qui nel taglio alto vediamo appunto una foto della regina eh Elisabetta seconda di spalle la regina del tempo titola il fatto quotidiano e poi in apertura eh sei miliardi per le bollette e ventidue per nuove armi affari correnti scrive nell'occhiello il fatto quotidiano draghi avaro sugli aiuti non sulle eh bombe per l'ergastolo non c'è tempo per il riarmo eh sì dice il fatto andiamo anche sul gazzettino e anche qui vediamo le due notizie del giorno in eh primo piano con l'addio a sua maestà la morte di Elisabetta dopo settant'anni eh di regno e ancora di spalla poi sempre comunque in apertura bollette aiuti alle famiglie sconti a bar e ristoranti nuovo decreto per dodici tredici miliardi si allarga al commercio il credito d'imposta ritocco al bonus eh sociale dal gazzettino andiamo adesso sul sole ventiquattro ore e anche qui nel taglio alto la regina Elisabetta morta novantasei anni ha fatto la storia Carlo Terzo è il nuovo re è davvero finito il novecento scrive il sole ventiquattro ore e poi invece in apertura la BCE tassi su dello zero virgola settantacinque per cento poi altri eh rialzi eh decisione all'unanimità della banca centrale europea tasso di riferimento all'uno virgola venticinque per cento la gara ha detto è solo l'inizio la presidente della BCE sull' inflazione abbiamo sbagliato resta troppo eh alta e poi vediamo nel taglio centrale l'economia dello spazio l'Italia accelera su lanciatori e moduli eh lunari e vediamo anche sul sole il nuovo decreto aiuti sei virgola due miliardi dall'entrata l'Unione Europea rinvia la scelta sul price eh cap andiamo anche sulla gazzetta dello sport un quotidiano sportivo ancora in eh primo piano le competizioni europee in particolare il momento di difficoltà dell'Inter in Europa ma anche in campionato scossa anticrisi titola la gazzetta dello sport il club corre ai ripari confronto tra dirigenti inzaghi e squadra tre linee guida da seguire tornare uniti trovare l'antica fame e stop ai gesti eh plateali e poi invece l'altra Europa l'Europa League brillano solo i e Bianco Celesti Poker Lazio che travolge il Feienord per eh quattro a due Beffa Morigno che eh va capo in extremis eh contro Ludogorez Viola Pari e eh fischi anche la gazzetta dello sport nel taglio basso mette la notizia dell'ull dell'addio a Elisabetta l'ultima regina sul trono settant'anni di spalla vediamo eh Milan Napoli è tornata duello spettacolare sa chi eh racconta eh questa storica sfida moderne e possono eh crescere e poi nel taglio alto eh nel taglio alto si ricorda anche eh la eh il Gran Premio di eh Monza all'appuntamento del fine eh settimana. Chiudiamo la gazzetta dello sport e eh andiamo adesso sui eh quotidiani locali anche sulla stampa locale messaggero Veneto piccolo eh gazzettino c'è la notizia eh della scomparsa della regina Elisabetta in eh primo piano allora vediamo il piccolo di Trieste la regina della storia così il piccolo definisce appunto la regina eh Elisabetta la fine dei settant'anni del regno Gran Bretagna in lacrime e poi l'anziano Carlo ricordiamo settantatre anni conquista il trono Harry Andrea e i guai della eh ditta della eh famiglia a centro pagina invece vediamo il titolo di apertura che ci porta alla cronaca locale all'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul Friuli Venezia Giulia pioggia e alta marea il centro si allaga i danni sono gravi sott'acqua Cavana e l'area tra piazza Unità e via eh Mazzini a Cegas dice ventisimili ogni cinquant' anni SOS degli eh esercenti. Allora andiamo a vedere le immagini proprio del maltempo ieri a Trieste con le strade allagate anche davanti a piazza Unità. Vediamo. Sì buongiorno a tutti gli spettatori direi che siamo in pieno delirio perché c'è gente che ci chiama perché è preoccupata che piove tanto purtroppo sta piovendo tanto e crea disagio. Mezza città sott'acqua dalle rive a barcola da Roiano sino alla periferia est. Piazza Unità come una piscina con tanto di moto ondoso. Decine di veicoli bloccati in tutta l'area del centro bagnati in impianti elettrici dei veicoli ecco che l'auto non va più in moto. Rientri in casa stile Lagunari guadando le strisce pedonali con mezza gamba sott'acqua e l'effetto della bomba d'acqua che si è scatenata su Trieste producendo allagamenti a raffica in locali e negozi della zona di città vecchia del ghetto come nel caso del ristorante La Chimera di Bacco. Oramai ci siamo arresi, basta l'acqua ha raggiunto penso i 50 centimetri abbondanti. Oramai è inutile proprio combattere, anche la porta non ce l'ha fatta più a tenere, due paratie niente da fare, tutto è andato. Ecco ci saranno 5 centimetri d'acqua dentro il locale, siamo riusciti almeno a evitare che salti la corrente, ce l'abbiamo ancora, no? Ma sta entrando acqua da per tutto. Super lavoro per i vigili del fuoco in tutto il Friuli Venezia Giulia con centinaia di richieste per i danni causati dal maltempo tra i territori più colpiti oltre a Trieste Gorizia, Monfalcone e Grado, chiamate non solo per i diffusissimi allagamenti ma anche per ascensori bloccati e alberi caduti o pericolanti. Nel capoluogo Giuliano il problema principale è stato quello della situazione stradale con la sala operativa della polizia locale che ha lavorato senza sosta per rispondere alle richieste d'aiuto di concerto con i tecnici di Acegas. Ci sono numerose richieste per tombini scoperchiati, segnalo la chiusura della via Pauliana, nel tratto compresenta commerciale Udine appunto per i tombini scoperchiati non si passa, non riesce a passare la fila di veicoli, allagamenti Svevo e Broletto, cavalcavia di Miramare. Ripeto, stiamo nel pieno delirio. E riguarda proprio gli allagamenti tra via Svevo e Broletto il video tra i più impressionanti circolati nel corso della giornata sul web. I scovazzoni erranti, di fermo, se si vedi, di bascula, bei rovi, qua gente ferma, gente che sbolta, ora che rovi, guarda l'acqua che mi viene dentro, ma proprio bei, bei momenti, bei e bei. Oh, surprise! Guarda cosa c'è andata la strada per rientrare a Broletto. Ok! Queste dunque le immagini di quanto è accaduto ieri a Trieste, ma come abbiamo sentito, ma al tempo ha interessato anche la località di Grado, la località di Aquileia, con tantissimi fulmini anche che si sono abbattuti proprio in questa zona della regione e che hanno interessato anche le idrovole proprio della zona della bassa d'Aquileia a Grado, mandandole in tilt e appunto contribuendo in questo modo agli allagamenti. Poi vedremo anche sugli altri quotidiani qualcosa di più anche su queste notizie. Rimanendo sul piccolo, invece, andiamo sull'edizione di Gorizia e vediamo le due facce di questa estate, le piogge intense, gli allagamenti di ieri e l'assicità, gli incendi delle settimane scorse. Questa è la prima pagina del piccolo di Gorizia, anche qui abbiamo la foto della regina nel taglio alto e poi incendi sul Carso, parte il censimento per i danni subiti. Il comune raccoglierà le segnalazioni delle imprese, i fincantieri, i cimolai, i nide, i kesbei, le più colpite. Queste erano le prime pagine del piccolo, cambiamo quotidiano, andiamo adesso sul messaggero veneto, messaggero veneto di Udine e vediamo l'eterna regina in questa foto in prima pagina. E poi di spalla le altre notizie con la crisi in Friuli Venezia Giulia, ordini in calo, Automotive rallenta la produzione, cassa integrazione per lo stabilimento di Tolmezzo, un'attività artigianale su cinque a rischio chiusura. E poi l'altra notizia della giornata di ieri, l'inaugurazione di Friuli Doc al via l'edizione della rinascita. Hanno detto ieri i tanti esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni e non solo presenti all'inaugurazione ufficiale di Friuli Doc, un'inaugurazione, un taglio del nastro che vi abbiamo raccontato in diretta, tra i presenti sul palco anche una delle bandiere dell'Udinese, Gerard De Lofeu, assieme a mister Sottile. E allora andiamo a rivedere un breve estratto della festa di ieri, della cerimonia di inaugurazione, un breve estratto in cui abbiamo ritagliato proprio le parole di De Lofeu. Gerard, allora il sindaco Fotenini ha chiamato per dire, mi raccomando, devi essorcere una promessa. Visto che avete asfaltato la Roma, il nostro sindaco vorrebbe che tu adesso promettessi che sarà così tutto il campionato. Prima di tutto ringraziare l'organizzazione da Friuli Doc per esservi invitati qui. Veramente siamo molto orgogliosi di essere qui, di abitare qui in questa regione. Io particolarmente con la mia famiglia mi sento molto bene, una città di Udine che è la primordiale e il rispetto. Ci sentiamo molto bene e niente, auguro una grande Friuli Doc. Noi da nostra parte, da giocatori, da società. Sappiamo che è indossare la maglia dall'Udinese, sappiamo la responsabilità che abbiamo e per questo vogliamo farvi godere ogni partita, ogni domenica allo stadio e alla Dacia Arena. Grazie. E allora andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di Udine, del Messaggero Veneto. Ecco qua, una doppia pagina dedicata appunto a Friuli Doc. È cominciato Friuli Doc. Qui è tradizione, identità e spinta all'economia. Al taglio del nastro anche il governatore Fedriga che ha parlato di un ritorno alla normalità. C'era anche il ricercatore Ferrari, emozione fortissima ha detto e poi è Mister Sottil che ha detto sono orgoglioso. Ritorniamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto e andiamo a vedere adesso anche le altre notizie. L'attentato in Mozambico, l'ISIS rivendica l'attacco alla missione e poi le disinfestazioni contro le zanzare a Tolmezzo è stata annullata la disinfestazione. E poi vediamo anche qui forti piogge, è allagata anche la basilica di Aquileia. Tornando a Friuli Doc è il caso, bandiera catalana indipendentista per Deulofeu. E poi Pordenone Legge è il legame con Praga Magica, le anteprime di Pordenone Legge che entrerà nel vivo la prossima settimana. Nel taglio alto spazio alla politica con Giorgia Meloni che questa sera sarà a Udine e dice c'è chi sta speculando sul gas. Fassino, la Lega pagherà la sua scelta irresponsabile. Rimaniamo sul Messaggero Veneto, cambiamo edizione, andiamo sull'edizione di Pordenone e vediamo anche qui i titoli principali. la foto della regina Elisabetta è la stessa, l'apertura di spalla sempre dedicata alle difficoltà del mondo produttivo delle aziende regionali, all'Electrolux, sei settimane di cassa integrazione. Ordini ancora in calo allo stabilimento di Porcia, un'attività artigiana su cinque a rischio chiusura. e poi vediamo la cronaca. Pordenone, cortocircuito e incendio grave, un'anziana, scontro frontale a Pasiano, ferita una donna. Amaniago, schiamazzi e rifiuti, protesta dei residenti. E poi vediamo anche qui l'Isis rivendica l'attacco alla missione. Spazio poi anche allo sport, ha un richiamo sportivo in prima pagina. Il Pordenone incontra i giovani talenti della Juve questa sera al Tegil. Andiamo adesso sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone, del messaggero Veneto e vediamo i rincari, gli scatti salariali, la tempesta perfetta sui conti del Comune per i pagamenti delle bollette servilanno 6 milioni, per le opere pubbliche 12, in più già bruciati i 3 milioni dell'avanzo di cassa e dal 2023 aumentano gli stipendi. E poi vediamo ancora ospedali e presidi sanitari aumenti annui fino al 50% dell'elettricità e del gas. E allora andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, il Gazzettino del Friuli. Vediamo anche qui i titoli di apertura. si ritorna in apertura sull'attacco in Mozambico, i terroristici hanno risparmiati i due sacerdoti pordenonesi al vescovo Pellegrini, hanno detto i ribelli erano ben informati e avevano delle istruzioni molto precise. Intanto si programma il ritorno a casa ma non c'è ancora una data precisa. Oggi in Mozambico i funerali di sua Maria uccisa nell'attacco. Ancora vediamo anche sul Gazzettino l'inaugurazione di Friuli Doc, Fedriga ha detto Friuli Doc oltre la pandemia a cavallo tra memoria e innovazione. Le altre notizie. In questura nuovo capo di gabinetto e cambi anche alla polstrada. E poi il maltempo tra Quileia e Grado 430 fulmini in tre ore. Dicevamo prima appunto dei fulmini che hanno mandato in tilt anche le idrovore della zona. Il CAI dice no alla nuova strada forestale e poi la crisi picchia duro, mancano i soldi per salvare le fabbriche. La regione è spinta a fare ancora di più. Si appella a confidi e alla sua finanziaria. Taglio di commesse, cassa integrazione all'auto. Motive nel taglio basso. Si ritorna su Friuli Doc, bagno di fole e applausi per Sottil e Deulofeu. In città tornano a scuola cento quattordici bambini ucraini e poi nel basket a più contro Mantua si fa sul serio. Mussini, noi pronti a crescere. Prima sfida ufficiale di questa stagione per la pallacanestro Udine impegnata in Supercoppa contro Mantua. E allora andiamo nelle pagine interne, nelle pagine sportive e parliamo proprio di pallacanestro. Ecco l'articolo l'Old Wild West a più a Mantua fa sul serio in Coppa. Carica Mussini, siamo pronti a crescere. Brisco ci aiuterà. L'ho già affrontato la gesteco dal ritiro al parquet ferrarese. Sta per scoccare la fatidica ora X di Supercoppa stasera alle 20. L'Old Wild West Udine affronterà in trasferta la staff Mantua al pallaboschetto con il ritorno delle partite che contano. Riprende la consuetudine della chiacchierata con un giocatore dell'Apu alla viciglia e il gazzettino comincia questa tradizione appunto con Federico Mussini che dice siamo pronti a crescere. Gara che lo ricordo potrete vedere in diretta su Udinese TV. Saremmo live appunto dalle 20 da Mantua. rimaniamo sul gazzettino e andiamo a vedere anche le altre notizie sportive. Andiamo a vedere le pagine dedicate all'Udinese. Ecco qua l'intervista a un ex bianconero Galparoli che dice segnali positivi. il difensore ha giocato con la maglia bianconera dal 1981 al 1990 fatti passi da gigante col sassuolo. Non sarà una passeggiata. Questo l'avvertimento di Galparoli che qui vediamo in una foto con la maglia dell'Udinese con Maradona. Ancora primavera in cerca di riscatto scrive il gazzettino. I ragazzi di Sturmi in quattro gare hanno perso tre volte. Oggi cercheranno di battere l'Empoli. Andiamo sul messaggero Veneto adesso. Sempre lo sport in questa parte di rassegna stampa e allora vediamo la doppia pagina che apre il fascicolo sportivo del messaggero Veneto. Beto scatta in pole position per l'attacco al sassuolo e Pereira resta sulla destra. Al Bruseschi si studiano le mosse per la trasferta in programma domenica. Il portoghese può tornare titolare al posto di success. Il tucu confermato scrive il messaggero Veneto. Per quanto riguarda gli avversari senza Berardi e De Frel davanti Dionisi adesso pensa al 352. Ancora andiamo a vedere anche le pagine successive in cui si parla della pallacanestro. Eccola qua. Old Wild West si riparte 89 giorni dopo quella disfatta. Finale persa con Verona da cancellare alle 20 a Mantua. L'esordio in Supercoppa. Eccoci Finetti dice vincere aiuta a vincere al Carnera. Si rivede Hull dopo 50 anni. Gestecco, rodaggio in Carnia, finito con il saluto di una leggenda. Manuela Dicenta ha salutato il soggiorno delle acude di Cividale in Carnia. E questo per quanto riguarda il basket. Vediamo anche le pagine dedicate, no non ce l'abbiamo, la pagina dedicata al Pordenone. Abbiamo solo il titolo appunto in prima pagina che ci ricordava l'impegno di oggi al Teghi. Chiudiamo questa pagina dedicata ai quotidiani locali e andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Tutosport e Corriere dello Sport che prima non abbiamo visto. Il Corriere dello Sport titola in apertura Sarri in volo, Murigno a terra, Eurolega ma vince la sfida a distanza. Lazio 4-2 Alfei e Nord Roma, K.O. Bulgaro 2-1. Questa è l'apertura del Corriere dello Sport che appunto nel taglio alto ricorda la Gran Bretagna che piange la sua regina. E poi vediamo anche Tutosport in apertura. Si parla di di ehm di di un'inchiesta eh del di tutto sport eh sul sul mercato. Più giovani meno spese uguale svolta Juve. Nostra inchiesta i bianconeri hanno inserito nella rosa tre giocatori della seconda squadra. È l'inizio di una nuova politica per arrivare alla sostenibilità. E poi vediamo tutte le eh altre eh notizie dall'Europa Liga alla crisi nera azzurra al aiurice in smart tentiamo il eh colpo anche qui nel taglio alto è morta la regina Elisabetta Dio a un'icona della eh storia. Andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti delle ultime ora sull'agenzia eh ANSA. No? In primo piano abbiamo ancora la notizia che avevamo visto anche ieri sera con l'addio alla regina Elisabetta e appunto Carlo Terzo è eh re confortati dal rispetto e eh dall'affetto per lei. Queste le parole di Carlo pronunciate eh ieri. Chiudiamo allora questa nostra rassegna stampa di oggi e eh andiamo a vedere come sempre prima di salutarci gli appuntamenti eh di oggi sul nostro eh canale con il Tg che ritorna in diretta alle dodici alle quindici pomeriggio calcio Tg Live alle sedici alle diciannove con il Tg Sport seguito dal Tg News ventiquattro alle diciannove quindici e dal Tg News Pordenone alle diciannove quarantacinque alle venti eh come dicevamo diretta da Mantua per seguire la gara di Supercoppa dell'Old Wild West alle ventidue il venerdì del direttore alle ventidue trenta l'ultima edizione del Tg il Tg della notte. Ci fermiamo qui vi lascio le previsioni del tempo ieri la protezione civile di Amato un allerta meteo anche per la giornata di oggi e come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro ancora una buona giornata. Un saluto e ben ritrovati amici di Udinese TV da Emma Tarigi di Trebimeteo. Umide correnti atlantiche favoriscono una certa variabilità e instabilità anche nella giornata di venerdì sul Friuli Venezia Giulia. Andiamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Dal mattino i cieli saranno in prevalenza nuvolosi e specialmente nel corso del pomeriggio si innescheranno rovesci anche a sfondo temporalesco. Fenomeni localmente accompagnati da grandinate e colpi di vento improvvisi. Le temperature massime al più perderanno qualche grado, il clima sarà un po' più fresco e gradevole. Valori diurni non oltre i 23-24 gradi. Osserviamo ora più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste anche qui una giornata variabile. Cieli in prevalenza nuvolosi daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a sfondo temporalesco. Rinforzerà la ventilazione e le temperature massime in contenuta diminuzione saranno prossime ai 23-25 gradi. Con questo per il momento è tutto. Maggiori dettagli sulle vostre località sempre sull'app di Trebineteo.